La notizia era già nell'aria da qualche giorno, adesso l'ufficialità alla fine di una lunga agonia, quella dell'IPAB, Casa di Riposo Leonardo Marano, di Via Luigi Orlando, una struttura nata a Giare nel dopoguerra che dopo quasi 70 anni cessarà la propria attività assistenziale. L'istituzione filantropica giarese chiude a causa del disastroso quadro finanziario, un disavanzo che si è cristallizzato negli anni sino ad arrivare ad oltre 600 mila euro e ancora creditori sulla porta e soprattutto decine di ingiunzioni di pagamento, cooperative che in passato hanno gestito la struttura assistenziale che vanta crediti importanti a fronte anche di mancati pagamenti degli stipendi da oltre 5 anni. Da qui la decisione irrevocabile del Consiglio di Amministrazione di presentare ieri le proprie dimissioni ufficiali essendo materialmente impossibile pianificare l'ammortamento del pesante disavanzo, così come rimarcato dal presidente del CDA Sebastiano Russo in una nota trasmessa ieri alla Regione Sicilia che una volta preso atto della situazione venutasi a determinare, adesso nominerà un commissario straordinario. La cosa che si è determinati a decidere e decidere di farlo anche subito per evitare l'incancredissimo del problema è il nuovo orientamento giurisprudenziale a proposito della cosiddetta impignorabilità di certe somme che gli enti pubblici potevano evitare che venissero pignorate. E l'altra cosa è che non è arrivata una risposta da parte della Regione al fermo degli atti che erano in corso per la fusione delle due ipab di giarre, cosa che avrebbe consentito, alienando un qualche cespito grosso non strategico, di poter finanziare e il pagamento dei debiti progressi e la ristrutturazione anche degli edifici. Ma a questo punto quale sarà il destino dell'ormai ex casa di riposo i cui ospiti in tutto 14 già a partire dal prossimo venerdì saranno ricollocati in altre strutture del territorio in conseguenza l'annunciata cessazione delle attività svolte dalla cooperativa che gestiva i servizi e che con decorrenza 7 aprile si fermerà non avendo percepito da tre mesi le somme che il CDA avrebbe dovuto assicurare in tre mesi circa 45.000 euro. Il sindaco di Giarre, Angelo Danna, dal canto suo stamane nella conferenza stampa, si rimette adesso alle decisioni della Regione, consapevole anche della mancata volontà proprio dell'ente regionale di agevolare in questi anni la fusione tra le due ipab già resi, la Marano con la Buonaventura, che certamente avrebbe consentito quantomeno di scongiurare la chiusura dell'ipab Marano il cui futuro a questo punto rimane davvero indecifrabile. Noi chiaramente abbiamo un potere di nominare un consiglio di amministrazione ma non possiamo gestirla. In ultima analisi chi ha l'ultima parola sul tema è la Regione siciliana. La Regione siciliana dove mi risulta esistono delle proposte di legge che dovrebbero riordinare tutta la materia delle ipab, la Regione siciliana che potrebbe in qualche modo anche decidere se portare avanti o meno quel progetto di fusione tra le due ipab già rese, Buonaventura e Marano, che era stata avviata già negli anni passati. Poi è stata fatta una richiesta di un parere legale, se era o meno possibile dar seguito, a seguito di osservazione da parte del nostro vescovo della Curia. A questa richiesta non è stata mai data risposta. Quindi da parte nostra sicuramente andremo a chiedere, a sollecitare un riscontro perché chiaramente è anche possibile nella storia. Intanto chiude l'ipab perché i debiti che si erano accumulate nel passato sono notevoli. Oggi il consiglio di amministrazione non poteva più disporre neanche delle rette per far fronte alle emergenze quotidiane. Grazie. 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 Grazie.